Allora Mauro Baglio, lei è Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nonché candidato nel Movimento 5 Stelle. Che dire, è una situazione insomma piuttosto delicata che fa discutere, che certo possiamo ben dire non giova ad un movimento, anzi che ha fatto della trasparenza insomma la sua bandiera. Che idea si è fatta? Farei una premessa. In primo luogo non c'è nessun obbligo giuridico alla restituzione di questi soldi. È un impegno che si sono presi i parlamentari del Movimento 5 Stelle, unici nel panorama nazionale e credo forse anche mondiale. E sono stati restituiti oltre 23 milioni di Euro e c'è stato qualcuno probabilmente, poi bisognerà vedere dalla contabilità che non ha assolto a questo impegno morale e bene ha detto il candidato Presidente al Consiglio Luigi Di Maio che queste persone saranno espulse o comunque sanzionate. Certo, di fronte a questi attacchi che vengono da entrambe le sponde tanto da destra e da sinistra, rimango un po' da una parte allibito e da un'altra parte un po' indignato. Allibito perché appunto provengono da chi non ha restituito nulla e la critica è fatta nei confronti di una minoranza sparuta di componenti, di parlamentari del Movimento 5 Stelle che non hanno restituito totalmente gli importi ricevuti. Indignato perché in fin dei conti voglio richiamare un passo del Vangelo secondo Luca perché guardi la pagliucca nell'occhio di tuo fratello e non ti preoccupi della trave che c'è nel tuo. Insomma è una sorta di mia colpa anche se insomma lei sta per entrare adesso. Parlava prima e giustamente insomma fa bene a ricordarlo non si tratta è vero di un impegno, anzi no è un impegno ma non un obbligo giuridico, diceva è assolutamente vero però pur sempre un impegno perché poi sugli impegni e sulla parola hanno costruito poi nel tempo credibilità quelli del Movimento 5 Stelle. Io le chiedo anche se Di Maio ha parlato di mele marce, mele marce che saranno poi espulse dal Movimento forse ci si aspettava un'attenzione maggiore non solo dal punto di vista della trasparenza forse anche più sul fronte del controllo a monte di questo impegno preso. Devo dire che di fronte a un impegno il controllo non dovrebbe essere necessario quindi se c'è stato qualche se c'è stata qualche mela marcia si prenderanno i dovuti provvedimenti interni è quello che a me lascia perplesso tutto questo scalpore esterno quando appunto si tratta di un'operazione meritoria meritoria perché sono stati messi a disposizione delle piccole imprese, piccole e medie imprese dei denari che sono di proprietà, sono lo stipendio dei parlamentari. La nostra ricchezza nella società ma non scegliamo però a chi darli, sarebbe bello se qualcuno mi dicesse un giorno decide a chi vuoi dare le tue tasse e io ma purtroppo a me non me lo lasciano fare vorrei che me lo facessero fare. Baglio? Proprio su questo no, ringrazio perché è una precisazione giusta e corretta, non è una restituzione per carità, è un termine che si usa così in linea generale ma proprio fortunatamente è una redistribuzione, è una scelta di dare alle medie e piccole imprese i denari guadagnati proprie, non sono tasse, quindi non è l'imposizione fiscale, viene restituito al mondo imprenditoriale a un importo che è di proprietà del deputato o del parlamentare. A questo aggiungo che quello che diceva prima l'onorevole Venite è molto importante, ognuno, ogni parlamentare poi fa beneficenza, interviene personalmente, soltanto quelle sono persone che non esclude, quindi è una cosa un po' diversa, se vogliamo ci si scandalizza, nel momento in cui diventa questo un regolamento, viene sbandierato, ci si fa sopra anche campagna elettorale, insomma ci si resta un po' male. Io sono del parere che bisogna ringraziare tutti questi attacchi da parte di destra e sinistra al Movimento 5 Stelle perché questo dà solo forza al Movimento 5 Stelle, è costante che quando c'è un amico che viene attaccato aumenta il proprio consenso elettorale, quindi sono tutte polemiche che sono… Scusi. Prego, mi dica. Voi vi siete appuntati sul petto, vi siete auto appuntati sul petto una medaglia, la medaglia dell'onestà, la medaglia della purezza, mentre tutti gli altri erano, contrariamente a questa vostra caratteristica, erano dei poco di buono, ma poi il problema è che a questa gara e a questo risultato, nel podio dell'onestà non ci siete arrivati, è una medaglia abusiva quella che vi siete appuntati, questo è il punto. Da parte mia penso che il reggioramento sia totalmente distorto, nel senso che l'onestà c'è in linea di massima e nella maggior parte dei deputati 5 Stelle ci sono delle mele marce come dovunque e il redistribuire i propri denari sicuramente è una medaglia che hanno il diritto e avrò il diritto anche io se sarò eletto di appuntarsi sul petto perché è un'opera assolutamente meritoria e non dare beneficenza ma investire nel nostro Paese e soprattutto nelle medie e piccole imprese il proprio denaro. Vaglio, resto da lei anche per un'altra questione, questa la riguarda davvero in prima persona perché lei è Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, insomma è fin qui nulla di male, decide di candidarsi e nessuno le dice niente, però insomma a quanto pare ha fatto un po' irritare gli avvocati della piazza romana, perché lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori, non è detto che tutti sappiano di questa vicenda, le critiche cominciano quando a un certo punto decide di utilizzare la mailing list dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che conta anche 25 mila iscritti per dare notizia della sua candidatura e in molti hanno chiesto le sue dimissioni, come risponde? Dunque, intanto non è assolutamente vero che gli avvocati romani abbiano polemizzato sulla mia candidatura, c'è stata una parte di avvocati... Ci sono sui social alcune critiche, ci sono tanti plausi, tanto sostegno e la main list non è la main list dell'Ordine degli Avvocati, è la main list di Mauro Aglio che è iniziata a creare nel 2003-2004 quando Mauro Aglio non era né Presidente dell'Ordine né Consigliere dell'Ordine né candidato al Consiglio dell'Ordine, ricordo per chi non lo sapesse che nel 2006 è iniziato, ho creato personalmente un sito www.mauroaglio.it che tra l'altro mi accomuna forse un pochettino la storia dei 5 Stelle per dare dei servizi ai miei colleghi, agli avvocati romani e poi si è allargato questo agli avvocati di fuori Roma, tant'è vero e nella mia main list sono presenti tantissimi colleghi non di Roma e che hanno avuto questa informazione, l'informazione che ho dato inizialmente è stata una mera informazione della scelta di candidarmi, ho fatto una seconda email come avevo promesso di spiegare questa scelta, da adesso in poi chiederò il consenso direttamente a ciascun componente della mia lista per avere informazioni politiche, perché fino adesso non ho fatto alcuna propaganda e campagna politica, devo dire forse me l'hanno fatta i miei detrattori, i miei avversari. Non volendo, va bene. Volendo, volendo.